Domenica 18 dicembre ci sarà a San Cataldo la seconda edizione di Babbo Natale in moto. Manifestazione di solidarietà aperta a tutti gli amanti delle due ruote che vestiti da Babbo Natale sfileranno per tutta la giornata per le vie della città. Sarà un motoraduno dove ci saranno alcune soste previste e giochi per i bambini della città. Sarà un giro all'insegna del divertimento e dello spirito natalizio, partendo dal monumento ai caduti dove alle nove i motociclisti si raduneranno per poi andare in giro fino alla sosta a Palazzo di Città, dove faranno visita con i doni alle comunità Germoglio e Alba e toccare altre zone come la Chiesa Madre, il quartiere Santa Maria di Nazareth, Corso Sicilia e Corso Vittorio Emanuele per arrivare sino a Pizzo Carano, il Calvario, la Chiesa Cristo Re per poi fermarsi al municipio per scambiarsi gli auguri natalizi.